bentornati amici del canale ed eccoci ovviamente qui con un nuovo video insieme oggi rasatura della testa perché sapete cerco un attimino di bilanciare tra barba appunto e testa andiamo a vedere che cosa utilizzo allora frugando nell'armadio ho ritrovato un altro multilama di quelli che avevo acquistato tempo fa ed è questo gillette qui che se non erro dovrebbe essere il blu 3 comfort allora io mi ricordo di averlo portato in video ma dando una rapida occhiata non ho trovato il video quindi mistero ma vabbè che cosa ci abbina intanto è volato penso l'avete sentito stick la toglia perché comunque lo stick in testa è molto comodo come post rasatura dopo barba dell'intesa al mentolo alcolico che non è niente male e pennello perché si ovviamente ci faremo un piccolo aiutino per montare in testa andiamo ad utilizzare il nostro caro vecchio piccolo omega intanto c'è l'inquadratura mi sa molto storta e devo provvedere ad addrezzarla ok diciamo che va un po meglio allora mi sciacquo subito la testa e intanto se avete ben notato ho dato anche una scorciata al pizzetto perché era diventata una cosa veramente ingestibile dicevo mi sciacquo la testa così passiamo l'applicazione dello stick ok sciacquato andiamo subito ad applicarlo eccolo qua lo stick la toglia l'ho portato svariate volte in video la sua fragranza delicata tra l'altro si abbina un po con tutto certo dio sei un attimo staccato non qui perché devo innestarlo per bene problema risolto andiamo a passarlo in questa maniera insisto maggiormente sulle zone queste laterali perché lì ci sono i capelli sono più robusti è una bella insaponata anche di ero anche col pennello opportunamente strizzato facciamo un minimo di prelievo ma poca roba è una cosa esagerata e passiamolo subito in testa perdonate come al solito la finestra aperta qui si sta schioppando nuovamente di caldo aveva fatto due giorni di fresco ma sono durati molto molto poco schiuma ovunque ma vabbè oramai ho abituato queste schifezze ok direi che ci siamo allora ovviamente rasoio nuovo veramente sono andato a cercare il video vabbè ho fatto una cosa abbastanza veloce perché non è che ci avevo molto tempo diciamo sono andato a scartatella tutti i video e non l'ho trovato mi ricordo di averlo già usato comunque tre lame striscia lubrificante striscia gomma da sotto mi ricordo proprio che non mi fece impazzire ha un minimo di ammortizzazione qui però la testina non è che flette più di tanto anzi per niente e che non mi fa impazzire il big extreme 3 ad esempio c'è la testa che flette un pochino di più e la cosa la gradisco perché ovviamente segue meglio le forme della testa se avete visto il video quello col big man ma capite di cosa sto parlando cominciamo facciamo prima il verso del pelo per non stressare troppo il cuoio capelluto devo dire che comunque già col pelo rimuove abbastanza ovviamente più lame abbiamo più frequentemente dobbiamo sciacquare perché ovviamente essendo più vicine si intasano prima ma vabbè vi posso dire che non si sta comportando male da una parte posteriore ma vabbè vi posso dire che non si sta comportando male da una parte posteriore adesso vi faccio vedere i consiglierei che non si sta comportando male da un po' di ovviamente adesso verso del vero abbiamo dato una sgrossata per lo più quindi andremo a fare tutto per bene il controvero perché vabbè sicuramente avrò lasciato qualche cosa mi sciacco e vi posso dire che comunque già dal verso del vero sono abbastanza soddisfatto non so perché non mi ricordavo che non andavano chissà quanto bene ok vediamo una bella passata con questo perché nel ciuffo non è che ci sia chissà quanto sapone anche perché essendo abbastanza piccolo non ne riesce a contenere tantissimo pennello ok dai a parte un po di schiuma addosso adesso andiamo a fare ovviamente il controvero partiamo sempre dal lato cerco di fare sempre un po qui l'attaccatura della barba a punta quando non la taglio io posso dire che comunque mi ricordavo decisamente peggio anche il taglio devo dire abbastanza profondo e questa è la zona un po più ostica perché qui ripeto i capelli ce li ho più spessi rispetto alla parte superiore rispetto all'interno Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Ok, guardiamo un po' così, perché ovviamente poi non è che hanno tutti lo stesso verso. Ovviamente c'è ancora la patina di sapone, quindi non è che sto facendo a secco, per allora matto ancora non ce l'ho diventato, cioè o meglio, un po' ce l'ho, però non fino a sto punto. Facciamo appunto acqua bene la basetta. Ok, bene, mi sciacquo, perché tanto non c'è nient'altro da tagliare e poi andiamo a fare le nostre considerazioni finali. Ok, risciacquato. La situazione è questa. Bello riscio. Con anche un piacevole effetto opaco, perché a me l'effetto luce non piace, infatti se ben vi ricordate avevo pure sto gel qua per rasarsi appunto, che lascia proprio l'effetto opaco. Io mentre parlo di come è andata la rasatura, intanto mi splascio l'intesa al mentolo, non l'ho messo al freezer perché diciamo il video l'ho registrato così al volo, lo sono ritrovato con un quarto d'ora libero e ho detto vabbè, registriamo. Molto buono questo intesa, tra l'altro è anche rinfrescante, quindi è super piacevole adesso. Allora, la rasatura secondo me è andata molto bene, perché ero partito prevenuto con questo rasoio, perché non me lo ricordavo onestamente. L'avevo provato, convinto anche di averlo portato in video, infatti dopo devo andare a scartabellare per bene, però mi aveva lasciato un po' incerto sulla sua efficacia, però oggi devo dire che si è comportato molto bene, anzi, diciamo che non mi ha fatto rimpiangere altri multilama più performanti che già ho provato. Quindi diciamo che mi ritengo soddisfatto e anche contento. Ripeto, dovrebbe essere il Gillette Comfort 3, perché ovviamente non ho più la busta, l'ho buttata, a me saranno rimasti due o tre circa, però conti fatti il suo l'ha fatto molto bene. Il sapone in stick, la doia lo conoscete, è un sapone che tra l'altro arricchito con sali minerali e che quindi passandolo direttamente in viso, diciamo, ha anche quel pizzico di qualcosa in più. Fragranza, vi ripeto, leggera, molto buona, sta bene un po' con tutto, così come questo, che ha una fragranza marina. Marina, lo so che è difficile da spiegare, però se vi dico fragranza marina, immaginate. Ha anche una punta di sali da bagno ed è molto buono. Questa è la versione alcolica, che, lo sapete, a noi ci piace l'alcol. Anche il pennellino ha lavorato bene, ma vabbè, non è una nuova. Video abbastanza breve, diciamo, diretto e conciso. Spero che vi sia piaciuto, perché comunque almeno una volta a settimana la rasatura della testa la devo portare, perché la devo fare. Se il video vi è piaciuto, mi raccomando, pollice in su, sotto in descrizione, gruppo Facebook, fatemi sapere nei commenti che cosa ne pensate, ricordatevi di attivare la campanella, altrimenti le notifiche non varivano. Io vi auguro buone rasature sia di barba che di testa a tutti quanti e ci vediamo al prossimo video in settimana. Ciao a tutti!